Buondì agli amici della Casa La Chiave. Oggi chiavi per camper, cliente, provonto per andare in Sardegna. Ecco qua, abbiamo duplicato la chiave col telecomando e la chiave, quella con il cappuccio rosso, per i vari sportelli che è in giro. Andiamo a provare quella col telecomando. Così apre. Così apre. Così, duro. Ok. Andiamo a vedere l'accensione. Se funge. Mia chiave. Ottimo. Alla grande. Adesso andiamo a vedere le chiavi. Dei vari sportelli che è in giro. Ecco qua. Funge. Benissimo. 21 agosto, Milano. Casa della chiave number one. Juno. Meti la stessa. Andiamo a vedere. Quanti! Grazie a tutti. Grazie a tutti.